dopo le smadonne reaction della roma stasera arriva la smadonna reaction appunto dell'italia si non ci accontentiamo noi solo della roma no assolutamente no perché stasera contro l'albania giochiamo giocherà pare che andiamo noi a giocare io pure guarda la giacchetta italia albania ci vediamo la partita che comincerà tra qualche minuto live reaction smadonnelli a non finire perché secondo me passerà un vantaggio l'albania secondo me ci metterà sotto spero spero da no perché se passano un vantaggio sarebbe un problema sarebbe veramente problema rosso che dici diamo il via la sigla ci vediamo tra poco vai ecco l'idea mamma mia partiti alla velocità alla velocità dalla luce insomma in modo da dire questi attaccano immediatamente mamma valla in mezzo addio 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 al momento ci lo fanno che calesci cicale come cazzo si chiama cicaloni cicaloni mamma questo è messa la palla a mezzo guarda come l'ha tenuta mamma mia per fortuna che ha spananato verso l'esterno perché se piava la porta era finito era palo colla era già scritto questi continuano ad attaccare i mortacci loro vabbè è arrivato un po da tanto tanto lontano è forno ha controllato per fortuna ha controllato si è smadonna nel frattempo no se legna se lega la lingua non è convinto però se lega la lingua parte la punizione se vabbè è calcio di rigore però e fischia e dai ha fischiato ha fischiato si ha fischiato è calcio di rigore no no è rigore per italia è rigore per italia ma che calciovoli stat è buono da che era un rigore nettissimo era netto dovevo segnato per forza e che cazzo su dai è una buona occasione a passare in vantaggio quello certo coi fumogeni tira non lo so io cazzo ma i levati si fumogeni boh oh li levati eccolo dei rossi dei rossi che cazzo ridi ma dai stracazzo super cazzo dai va bene abbiamo la segnalata mia stavano ammirati una zero roma stavano una zero roma gari roma albania una baniera c'è stato ai mondiali si va bene che è sto lancio madonna mia ma dove è uscito sto lancio una barzaia che non lo tiene si 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 era un tiro un po una caccoletta un po moschetto se toccano arriva lo sventaglione in mezzo una merda ammazza oh madonna mia occasione sprecata c'è qualcuno che reclama un rigore ma non ce ne frega un cazzo dai è così ancora un colpo di testa chi è bonucci mi sembrava di sì è bonucci si è sfregnucci buono il colpo di testa ho capito ma dobbiamo far due a zero che non arriva attenzione a questi che so di una pericolosità immane dai chiudilo ma che cazzo ha fatto questo vabbè scivola sta chiede l'angolo no non è anche l'angolo che ha fatto oh è rosci è rosci è rosci lo ricordiamo rosci bello sto reguvero velotti sono davanti al portiere mamma mia gli ha spaccato le mani secondo me spaccato le palle a stracoscia mamma mia gli ha spaccato le mani veramente oh bellissima l'azione mamma mia ma hai visto che parla dei ratti pure oh bella 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 ammazza oh e dai però questi attaccano ancora oh e che cazzo oddio ci hanno avuto ci hanno avuto quegli attimi di un passo che la palla ieri batteva sempre addosso capito momenti segni ha fatto un tiro a giro innesimo corner ancora in signe mamma mia tutti uguali stasera che cazzo questi pareggiano questi pareggiano stiamo a spreca troppo è finita arriva la sospensione per lancio dei fumogini al 57esimo finita ma da dove cazzo li prendono sti fumogini ma come fanno a portarli entro lo stadio è questo che non lo spiega come fanno se li tirano nel culo io non lo so perché non è possibile ma stavete che cazzo stanno a fare si ma non esci dall'inquadratura vieni qua è san siro è san figo se dice te l'ho detto cento volte quando cazzo ricominciano ci ha danno a tavolino magari chi è questo la conclusione del tiro e candreva che cazzo bella la conclusione però è cadrega e candrega 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 ancora ancora di nuovo la palla ci arriva ci arriva in qualche modo la conclusione che cazzo cazzo puttala dentro no sta bestemmiando a voletano fregni in mamma buona l'apertura si è buona ma tanto questo tirata qua questo tirata qua lo sapevo ho capito ma che cazzo fai che cazzo buh si è visto già da come era partito che tirava cazzo non so buh ti immaginiamo palla troppo lentamente cioè ci mettiamo tre ore mamma mia ecco è insigne buona la palla in mezzo oddio la prende oddio la prende oddio la prende oddio la prende cioè non è che la prende addio la prende candreva no la prende stragoscia cadrega si stracò che altro angolo altra capoce ne avessimo imbroccata una luci e bolucci ne avessimo imbroccata una stasera a parte lo sventa io ammazzerò che cazzo immobile bello io sai che pensavo chi era chi era borucci sempre borucci no 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 ha fatto un tiro in porta oggi bella bella bellissimo il colpo di testa oh no 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 Spock probably hai ballato albanese sto cazzo ecco eccolo è finita sei contento contentissimo sono tre punti importanti c'hai una bolla grossa così farei un cratere lunare ma qua sotto si perché mi sono fatto la barba non ci fa carino ma mia vabbè e quanti like prossima live reaction dell'italia quale sarà la prossima italia olanda c'è stata l'amichevole scusate sta a fare un attimo la panoramica 1200 like 1200 like direi che il minimo sindacale sindacale ovviamente arriveranno poi sulla roma quando ricomincerà il campionato di serie a ovvero tra quattro mesi la pausa delle nazioni che scombussola sempre a me che scombussola le mutande vabbè mi piace commentate condividete iscrivetevi al canale ci vediamo al prossimo nuovo video bella ciao 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 ciao